buongiorno da WTV news oggi 29 ottobre beata chiara luce badano il 29 ottobre si celebra la giornata mondiale dell'ictus world stroke day malattia cerebrovascolare acuta causata dall'improvvisa ostruzione da parte di un trombo di un embolo ictus ischemico oppure della rottura ictus emorragico di un vaso sanguigno che irrora l'encefalo è importantissimo riconoscerne subito i sintomi spia difficoltà nel parlare semiparesi facciale impossibilità di sollevare o muovere un braccio una gamba in caso si presentino occorre allertare immediatamente l'emergenza sanitaria chiamando il 112 la catena del soccorso attiverà un percorso dedicato che trasporterà il paziente nel più breve tempo possibile in ospedale in coattiva una stroke unit reparto dedicato recarsi al pronto soccorso con i mezzi propri non è indicato il rischio è quello di perdere più tempo e di raggiungere strutture sprovviste di centri specifici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti